Ai migliori anni, il programma in onda su Rai 1 sabato 13 aprile e condotto da Carlo Conti, sono tanti gli ospiti in programma e tra questi c'è l'attore Enrico Montesano, pronto a raccontare tramite la suet parade i personaggi, gli oggetti e le canzoni più significative della sua vita nello spazio denominato 3x3. Enrico Montesano entra in studio sprigionando un'allegria che dona nuova linfa vitale alla trasmissione di Carlo Conti per poi iniziare la suet parade con Paolo Panelli, uno dei personaggi che ha apprezzato di più, perché lui e sua moglie erano due persone mai banali, molto intelligenti e spiritosi. Tra le canzoni invece cita E che colpa abbiamo noi e dei De Rockes, Mogola ha riscritto il testo, molto bello in quanto sentiva gli umori dell'epoca, dei giovani che contestavano, i ribelli. Io ho presentato questi gruppi ed erano il massimo. Un oggetto che suggerisce ai giovani è il jeans a zampa di elefante, perché era la moda di quegli anni, e poi il modo di vestirsi era importante. Nessuno si vergognava di indossare certi vestiti, perché uscivamo tutti in strada conciati in quel modo. Un altro personaggio è Aldo Fabrizi, perché recitare con lui il rugantino per tre mesi e stare tutte le sere alle prove insieme era stupendo. Le abbiamo fatte sotto Natale e tutti i giorni arrivava con quattro o cinque scatole di Pandoro, mentre la seconda canzone è stasera Mi Butto di Rocky Roberts, lui è stato un simpatico personaggio che ci teneva compagnia tutte le sere sulla Rai. Ho fatto pure il Nel Sole con Albano e Romina Power e ho visto nascere il loro amore. Quando giravamo e toccava a loro recitare, i primi tempi arrivavano subito, poi, man mano che le riprese andavano avanti, dovevamo chiamarli più volte per vederli sul set. Non manca infine una videocassetta con una registrazione di Bravo, lo spettacolo teatrale di Enrico Montesano. A questo punto Conti si complimenta con lui, dicendogli che è un fuoriclasse perché sa fare tutto, e l'attore si commuove in diretta, gli occhi lucidi sono evidenti. Ai giovani consiglio di andare al teatro, ma anche di usare la tecnologia moderna. Per esempio, sui cellulari ora si possono trovare anche tutte le riprese degli spettacoli. Ricordatevi che per giudicare un attore bisogna averlo visto al teatro. È questo l'importante. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news, puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.